Cosa è la sindrome da intrappolamento dell'arteria poplitea? La sindrome da intrappolamento dell'arteria poplitea è un disordine dello sviluppo relativamente raro in cui l'arteria poplitea e il muscolo gastrocnemio nel polpaccio sono orientati in modo anormale l'uno rispetto all'altro. I sintomi di questa condizione possono includere dolore alle gambe, intorpidimento o formicolio dei piedi e delle dita dei piedi o una frequenza cardiaca ridotta nell'arteria interessata. La terapia per la sindrome da intrappolamento dell'arteria poplitea può includere l'uso di farmaci da banco o da prescrizione, restrizioni dell'attività o interventi chirurgici. Complicazioni come la formazione di coaguli di sangue sono possibili se questo disturbo non viene trattato, quindi è importante che i pazienti programmino appuntamenti regolari con un medico una volta diagnosticata questa condizione. I pazienti con sindrome da intrappolamento dell'arteria poplitea spesso hanno difficoltà a camminare normalmente o svolgere compiti normali a causa del dolore alle gambe, che tende a peggiorare durante l'attività fisica. L'arteria interessata può comprimersi, causando frequenti crampi muscolari che spesso diminuiscono di intensità durante i periodi di riposo. Se i nervi associati vengono coinvolti, possono verificarsi sensazioni di intorpidimento o formicolio. Le sensazioni di shock elettrico possono indicare che si sono verificati danni ai nervi. Un esame fisico da parte di un medico rivela spesso che il polso dell'arteria poplitea è più basso del normale, suggerendo che il flusso sanguigno corretto è diminuito. Un test specializzato noto come arteriogramma può essere utilizzato per confermare una diagnosi sospetta di sindrome da intrappolamento dell'arteria poplitea. Questa procedura può essere eseguita su base ospedaliera o ambulatoriale, a seconda della salute generale del paziente. La tintura a contrasto viene iniettata nell'arteria poplitea e una radiografia viene eseguita in modo che il medico supervisore possa rilevare problemi come blocchi o danni strutturali all'arteria. Una volta che è stata fatta una diagnosi definitiva della sindrome da intrappolamento dell'arteria poplitea, è possibile implementare un piano di trattamento personalizzato. I casi lievi di sindrome da intrappolamento dell'arteria poplitea possono essere trattati con una combinazione di modificazione dello stile di vita ai farmaci. Gli antidolorifici da banco o da prescrizione, i niorilassanti e i fluidificanti del sangue sono tra i farmaci che vengono spesso usati per trattare i sintomi di questo disturbo. Se i sintomi sono relativamente lievi e si verificano solo a causa di un intenso esercizio fisico, l'attività fisica può essere limitata nel tentativo di evitare la necessità di metodi di trattamento più invasivi. Alla fine, la maggior parte dei pazienti con sindrome da intrappolamento dell'arteria poplitea deve sottoporsi a una o più procedure chirurgiche per correggere danni ai vasi sanguigni, ai muscoli e ai nervi.